Da questa città, scelta emblema di ogni città italiana, prende il via un viaggio insolito e affascinante nel quale vi farò da guida. Scopriremo insieme cose utili e interessanti su un materiale prezioso come il vetro e il suo riciclo. Cose che è bene che tutti conoscano. Seguitemi. Oggi il vetro è presente in quasi ogni luogo del pianeta Terra ed è talmente versatile e utile per gli usi dell'uomo che ci si fanno oggetti diversissimi da quelli diciamo così soltanto per il piacere estetico a quelli invece utili, li conosciamo bene, quelli classici ma anche quelli più moderni. La tecnologia effettivamente ha fatto talmente tanti passi in avanti che è possibile utilizzare il vetro per moltissimi usi. È un materiale preziosissimo che ha mille possibilità di utilizzo per gli uomini e che ha anche mille vite. Il nostro stile di vita, diciamo pure il nostro sistema economico ormai ci sta portando alla fine delle risorse naturali che si stanno esaurendo, non sono infinite, le consumiamo continuamente. Questo oltre alla fine delle risorse in sé porta anche a un aumento del carico inquinante, a uno spreco di energia. Per questa ragione dovremmo imparare a consumare un po' meno forse o comunque in maniera più attenta. Il riciclaggio in questo senso è la strada maestra per tutti quanti i materiali e per il vetro in particolare. In fondo riciclare vetro è un'operazione molto semplice, fondamentalmente sana, che ci comporta soltanto un cambiamento di abitudini, un po' di attenzione e porta un grande aggiovamento in termini di salute e di benessere ambientale e oltretutto ci fa anche risparmiare. La raccolta del vetro avviene in maniera diversa a seconda della singola amministrazione comunale ma anche del contesto evidentemente può essere fatta porta a porta sull'uscio di casa oppure conferendo il materiale nelle campane. Ma questo è il punto cruciale dove si richiede la collaborazione attiva dei cittadini ai quali in fondo sono richiesti soltanto dei piccoli accorgimenti. La raccolta differenziata del vetro è rivolta soprattutto a ricavare vetro cavo, cioè quello che serve poi per avere bottiglie, contenitori, vasetti. Ma per fare questo però bisogna seguire alcuni accorgimenti particolari che rendono più efficace e meno dispendiosa la raccolta differenziata e poi dunque il riciclaggio. Potremmo domandarci come deve essere il vetro che inseriamo nella campana. Molto pulito? Perfettamente pulito? Oppure anche un po' sporco? Ecco, qui ci sono delle bottiglie completamente lavate e pulite. Non è necessario fare lo sforzo di lavarle fino in fondo consumando magari molta acqua calda e molto detersivo. Si può anche con un vasetto sporco di olio come questo dare forse una sommaria sciacquata, ecco così, e avere già un vasetto che è abbastanza pulito. Un'altra questione è quella delle etichette. Ce ne sono su tutte le bottiglie. Potremmo pensare, e lo sappiamo, che la carta non va insieme al vetro. Possiamo cercare di levarle, ma solo se questa operazione è molto facile, magari con un po' d'acqua, ma al volo. Altrimenti conviene lasciare perché verranno poi levate successivamente. Forse però è più importante sapere esattamente come dobbiamo conferire il vetro nelle apposite campane. Per esempio, in genere lo portiamo così, no? Dentro una busta mettiamo i diversi contenitori. Però ricordiamoci di non mettere anche la busta nella campana, soprattutto se è monomateriale, né il caso di mettere dentro i contenitori del vetro gli specchi. Ecco, questi sono quei materiali che possiamo chiamare generalmente i falsi amici del vetro, perché sembrano vetro, ma in realtà non lo sono. Comunque non sono solo vetro. Nel caso specifico, per esempio, lo specchio dietro ha una patina che contiene materiali diversi, come l'argento, che è bene che non vadano mescolati poi con il prodotto finale che vogliamo ottenere, che deve avere certe caratteristiche. Dunque, niente specchi nel cassonetto o nella campana del vetro, come pure non dobbiamo inserire là dentro le lampadine, che sono dotate alcune di un filamento, altre di altri congegni, o del posto dove c'erano i gas, e del metallo che non debbano essere mescolati con il vetro. Però più pericoloso di tutti è il Pyrex, questo. Quelle pentole cosiddette pirofile, perché vanno sul fuoco direttamente, che però non sono fatte soltanto di vetro, pure se sembrano vetro. La ceramica, stesso discorso, non può essere mescolata nel vetro, perché poi renderebbe quel prodotto finale, la nuova bottiglia, il nuovo vasetto, più fragile se per caso un pezzettino di questo materiale, che ha un punto di fusione diverso, finisse dentro la pasta. Renderebbe quel vetro non più utilizzabile in maniera del tutto affidabile. Ma neanche il cristallo, quello dei bicchieri di pregio, può essere mescolato col vetro, c'è piombo qui dentro, ed è bene che dunque venga tenuto fuori da quel processo di recupero e riciclaggio del materiale. E infine le apparecchiature elettroniche costituiscono un problema sempre maggiore. Gli schermi, per esempio, dei vecchi televisori o anche di nuove apparecchiature, sarebbe bene conferirli a parte in depositi di trattamento di questo tipo di rifiuti elettronici. Spesso però anche gli amministratori non sanno bene quale strada scegliere nel rapporto con i rifiuti e con quelli che debbono essere differenziati e poi riciclati. Hanno problemi di vario tipo, di contesto urbano, di tenere presente quello che già esiste nei posti dove si opera, di risparmiare energia, di risparmiare sulle emissioni inquinanti. Non sanno spesso quale strada scegliere. Per questa ragione ci si può rivolgere ai consorsi che nel caso del vetro specifico, ma anche degli altri materiali, possono fornire il know-how, la tecnologia, il sapere, per quello che riguarda la strada scegliere, lo possono rapportare al contesto urbano del posto in cui si opera. In questa maniera una consulenza da parte dei consorsi può risolvere problemi che altrimenti sembrerebbero davvero difficili da risolvere. I cittadini per la verità sono un po' disorientati, perché per quello che riguarda la raccolta del vetro, ma anche dei rifiuti in generale, ogni città, ogni comune ha le sue regole e da una parte si raccoglie l'umido, separato dal secco e basta. In altri casi invece c'è il vetro che viene raccolto insieme alla plastica e ad altri materiali, la carta quasi sempre a parte. Insomma ci vorrebbe magari una normativa più generale, utile e omogenea per tutti quanti, ma ci sono molti fattori che condizionano questo. Nei centri storici per esempio è difficile far passare automezzi di grandi dimensioni, mentre invece qualcuno si può opporre alla campana per la raccolta del materiale perché leva il parcheggio. Insomma dovremmo pensare un po' di più al bene comune. Per quello che riguarda specificamente il vetro che qui stanno raccogliendo, la raccolta monomateriale, cioè soltanto del vetro, sarebbe l'ideale. Meglio ancora sarebbe separarla per diversi colori, renderebbe più facile le operazioni di riciclaggio e più produttivo quel processo. Con il materiale raccolto da una campana per il solo vetro, il 96% torna ad essere una nuova bottiglia. Con la campana vetro e metallo si recupera il 92% di materiale che torna ad essere una bottiglia. Con il porta a porta solo vetro il 90% torna ad essere bottiglia. Con il porta a porta vetro e metallo l'88% torna ad essere bottiglia. Con il contenitore stradale per metallo, vetro e plastica solo il 65%. Il vetro che deriva dalla raccolta differenziata non può essere riutilizzato così com'è. Ha bisogno di essere trattato. Vanno eliminati i grandi corpi inquinanti e naturalmente anche le piccole impurità. Il primo passo è la selezione manuale dei grandi corpi inquinanti. Qui viene effettuata la selezione manuale che permette di allontanare dal vetro i corpi estranei di grandi dimensioni. Viene fatta ad occhio e sono soprattutto buste di plastica, contenitori di plastica, qualche volta qualche pezzo di legno. Insomma tutto quello che non deve entrare, almeno qua in prima analisi, con il riciclaggio del vetro. Il secondo passo è quello della selezione meccanica, il baglio del materiale che è arrivato qui. Questo tipo di selezione avviene facendo passare i materiali lungo setacci che vibrano. Questi setacci fanno cadere i frammenti di vetro troppo minuti per finire in vetreria su un nastro trasportatore sottostante che li porta al loro nuovo destino, che sarà la sabbia di vetro per l'edilizia, oppure la discarica se non sono utilizzabili neppure per questo scopo. Tutto il resto invece rimane nelle maglie dei setacci a seconda della dimensione che si vuole ottenere. La fase successiva è quella che riguarda la separazione dei metalli, che abbiamo già visto nella fase della setacciatura dei vagli essere una parte preponderante, specie perché sono attaccati ai barattoli come coperchi. Ebbene, qui ci sono delle grandi elettrocalamite rotanti che strappano letteralmente via dal flusso del materiale trasportato sui nastri la parte metallica. Possono arrivare fino a levare barattoli o contenitori da 5 o 10 litri di capienza. In questa quarta fase si cerca di recuperare i metalli non ferrosi, quelli ferrosi che ha già portato via l'elettrocalamita, e l'alluminio che è molto importante. Attraverso degli aspiratori vengono separati dal vetro i corpi con un basso peso specifico, la carta, la plastica, il zucchero, eventualmente i collarini di alluminio. Per questo utilizzando un sistema di correnti parassite diverso da quello dei magneti. il quinto passo, questo, è davvero cruciale, perché qui bisogna eliminare la ceramica e tutti gli altri corpi opachi che possono compromettere il risultato finale del vetro che andiamo a ottenere di quello riciclato. Qui, a ognuna di queste lucine che si accende, corrisponde un soffio di aria compressa che spazza via dal flusso di materiale il corpo opaco, la ceramica. È un lettore ottico, ce ne sono di più sofisticati che addirittura ci dicono di che materiale si tratta. Ma quello che avviene qua dentro è cruciale perché se rimanesse un pezzettino di ceramica o di altro materiale non confacente, non conforme al vetro, in questo flusso di materiale il contenitore, la bottiglia, il barattolo che ne verrebbe fuori sarebbe compromesso nella sua resistenza, diventerebbe più facile, si potrebbe spaccare perché questi materiali hanno un punto di fusione diverso da quello del vetro e dunque quando viene rifuso tutto il vetro, se ha queste parti differenti, il vetro è più debole. Naturalmente c'è una campionatura finale e un controllo di qualità che permette che questo non avvenga, ma si deve anche considerare che durante questa fase va perduta una gran parte di vetro pure, il 90-95% di quello che viene eliminato è vetro attorno ai corpi opachi, per intendersi per ogni singolo pezzettino di ceramica ce ne sono 20 di vetro che vengono eliminati, il 30-50% in peso del materiale finale è vetro che è stato, diciamo così, asportato ma che si poteva risparmiare. Ecco perché è molto importante all'inizio del processo allontanare già da subito questi corpi estranei. Ecco qui siamo alla fase finale, quella dell'analisi a campione, per ogni ora di lavorazione 50 kg, dei materiali a caso del materiale che dovrebbe andare in forno, vengono analizzati per un'altra volta, un'ennesima volta, per eliminare queste parti che sono estranei evidentemente al processo che dovrà portare poi alla rifusione del vetro e per dare un controllo che riguarda anche il numero degli elementi, non soltanto la grandezza delle particelle che potrebbero rinficiare poi il prodotto finale. Il vetro selezionato viene alla fine trasportato in vetreria, dove termina il processo di selezione e trattamento e comincia il processo produttivo, alla fine del quale il vetro tornerà a essere quello che era, un bicchiere, un barattolo oppure una bottiglia. Nel corso degli anni la tecnologia si è molto raffinata, oggi un singolo oggetto di vetro può contenere fino al 90% di vetro riciclato, il restante 10% sono materie prime. Il rottame di vetro, cioè il vetro già formato, arriva qui pronto per andare al forno, dove cuocerà a temperature comprese fra 1200 e 1500 gradi. Se invece avessimo dovuto utilizzare per produrre quella stessa quantità di vetro, le materie prime, cioè la sabbia e le altre che vanno aggiunte, avremmo dovuto spendere una gran quantità di queste materie prime, in media 120 kg per ogni 100 kg di vetro nuovo formato e avremmo dovuto sprecare molta più energia, perché il forno sarebbe dovuto arrivare a 1700 gradi di temperatura. Quindi qui sta il modo di risparmiare energie e materie prime nel riciclaggio del vetro, nella sua ricomposizione a partire da un vetro già utilizzato. Sostanzialmente da una tonnellata di bottiglie e di vetro che abbiamo riciclato possiamo ottenere un'altra tonnellata di bottiglie, come dire circa 3000 bottiglie per l'acqua, per il vino, per quello che è, e 5000 vasetti. Insomma un processo che ha dal punto di vista energetico e delle materie prime una grandissima convenienza. Qui siamo proprio nel forno, dove avviene appunto la fusione opportunamente dosata delle materie prime, che sono per lo più rottame di vetro, come abbiamo visto, vetro cioè riciclato, ma che ha bisogno di altro materiale in piccolissima percentuale, soprattutto per una questione di colori. Ecco, là dentro ci sono temperature superiori ai 1500 gradi, è tutto costruito di materiale refrattario, si può vedere lì, alimentato da gas metano e autoregolamentato per funzionare 24 ore su 24, monitorato in più e inoltre perché il processo di vetrificazione delle materie prime avvenga in maniera ottimale e corretta. Già gli antichi compresero che utilizzando rottami di vetro se ne poteva produrre di nuovo in maniera più semplice ed economica. In fondo al mare infatti è stato trovato il reddito di una nave romana, la Iulia Felix, che trasportava cocci di vetro per alimentare le vetrerie di Venezia, tra le più importanti al mondo già allora. La raccolta differenziata del vetro in Italia è iniziata negli anni 70, ben prima che lo imponesse la legge e in anticipo su tutti gli altri materiali, ma il primo straordinario caso di raccolta differenziata regolamentata per legge lo si ebbe a Napoli, quando all'inizio del XIX secolo Ferdinando II di Borbone emanò un editto in proposito. La formatura è il processo cui assistiamo da questa cabina di controllo e di monitoraggio. Il liquido fuso a 1200 gradi, anzi più, viene fatto raffreddare in canali appositi in cui la temperatura diminuisce gradatamente e poi viene tagliato in gocce che saranno proporzionali in quanto appeso all'oggetto che si vuole poi ottenere e che in questo caso è costituito dalle bottiglie che vediamo scorrere poi là sotto e raffreddarsi lentamente, via via che perdono il colore rosso mentre si allontanano e mentre qualcuno controlla che non ci siano altri difetti. All'interno di quel forno lì, quello azzurro, avviene un processo di ricottura. I contenitori vengono sottoposti a un altro riscaldamento e poi a un raffreddamento graduale che le porti progressivamente alla temperatura ambiente. E inoltre viene spruzzato un liquido, lo si può vedere lì, che insieme ad altri trattamenti al titanio operati precedentemente rende la bottiglia più tenace, cioè in pratica si possono ottenere dei contenitori più sottili e nello stesso tempo più resistenti di quanto non si facesse in passato. L'ultima fase è quella del controllo di qualità finale. In questo momento un operatore si sta occupando a mano e a occhio di vedere quelle che sono le caratteristiche di integrità, di resistenza del contenitore, in questo caso una bottiglia, ma anche la calibratura della bocca e altre caratteristiche che possono essere valutate a occhio o con semplici controlli meccanici. Ma tutto il processo è computerizzato, è monitorato continuamente perché è importante che ci sia uno standard di qualità elevato e avviene su tutto il processo produttivo. Qui, dal punto di vista degli errori, dei rifetti, la tolleranza è zero. Ogni anno, grazie a questo processo di riciclaggio del vetro, è possibile in Italia risparmiare una grande quantità di materie prime, di risorse non rinnovabili, 3 milioni di tonnellate. e si risparmia pura energia, quella sufficiente a 400 mila famiglie italiane e anche una gran parte delle emissioni inquinanti, quelle pari a 1 milione e 300 mila autovetture, come le automobili Euro 5 che circolano nella zona di Milano. Insomma, il riciclaggio del vetro conviene sotto tutti i punti di vista. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti.